ciao amici bentornati in un nuovo video c'eravamo lasciati con un barattolo di nutella e dei pop it abbiamo un cucchiaio che ci servirà per fare questo lavoretto quindi oggi cosa realizzeremo faremo dei pop it alla nutella quindi da quale pop it partiamo partiamo dal leone una volta che abbiamo fatto no intanto facciamolo vedere ok vedete quindi abbiamo riempito tutto il pop it con la nutella adesso lo dobbiamo mettere in freezer così diventerà un cioccolato si solidifica e quindi diventa un cioccolatino alla nutella a forma di leone quindi mettiamolo su un fazzoletto di carta ok quindi lo posizioniamo su un fazzoletto di carta lo fa ivan e lo mettiamo nel freezer ok mentre ivan si lava le mani e aspettiamo che si solidifica prossimo pop it passiamo al prossimo alla stella a forma di stella un pop it alla nutella a forma di stella riempiamo il pop it a forma di stella riempiamo il pop it a forma di stella è scappato un pezzo di nutella no è scappato un pezzettone di nutella vediamo 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 ecco ci siamo riusciti a toglierlo seguiteci per altri disastri seguiteci per questo buonissimo dolce che cucchiai che cucchiaiata di nutella dai ivan dai basta così ridi qualcuno si è riempito di nutella io no ciao amici bentornati adesso vediamo come è il pop it alla nutella come è uscito questo pop it alla nutella come l'abbiamo realizzato vediamo il risultato finale guardate eccolo qua questo è il risultato finale si un pop it alla nutella ma com'è congelato oggi adesso assaggiamo questo pop it ma se non siete iscritti scrivetevi sul nostro canale ivan kids stories adesso mangiamo il pop it alla nutella adesso lo assaggiamo anzi no lo assaggi tu ivan quindi prendi un pezzo di questa stella una stella guarda 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 attento non pulirti addosso attento tieni un po' te un po' io vai un po' te buonissimo bel gelato alla nutella io non lo mangierei tutto è buonissimo ragazzi divertitevi anche voi realizzando pop it alla nutella è buonissimo se vi piace la nutella lasciate un like ci vediamo in un nuovo video non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale youtube ivan kids stories iscriviti al canale review